E' un libro meraviglioso. Aspettando per farmelo filmare. Io sono particolarmente felice di cominciare da questa libreria, che io abito qua dietro. Mi aprovo la libreria di casa mia. Sono da un'iniza di per dieci minuti, però stavolta non è da sola, perché c'è un angelo con me. Eccolo qua. Diamo una bella notizia, una bellissima, festeggiamo, perché la prima volta non lo possiamo dire in pubblico. Siamo primi tra la stessa macchina e da oggi è il libro più benignuto in Italia. Contentissima, non vedevo l'ora. Adesso però basta. Basta, va bene. Un angelo gustone. scritto da Massimo Gramerini. La verità è che siamo divertiti a scrivere, ma che come tutti i libri, poi ti tira fuori delle cose che non sai neanche di avere. Massimo, dai che dobbiamo andare a fare la presentazione. Questa è la zona di Roma dove Chiara è nata e cresciuta. Quindi è molto bello che noi finiamo questa giornata a casa sua. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.